Quello che vogliamo adesso in queste ultime partite è continuare a fare quello che abbiamo fatto tutto il campionato cioè andare in campo e giocarci la partita. Oggi siamo andati in campo, volevamo raggiungere assolutamente questo record perché sappiamo che rimane nella storia e questo gruppo comunque merita di rimanere nella storia. Ci siamo riusciti e sono contento per il gol, è logico, ma questa squadra comunque sta dimostrando che questo campionato non vuole regalare niente nonostante queste ultime partite. Adesso mi godo questo finale di campionato, mi godo questo gruppo mi godo questi uomini, questi ragazzi che comunque nel mio periodo difficile dove tutti magari non credevano più in Pisano questi miei compagni hanno sempre creduto in me, mi hanno aiutato e questo gol è anche merito loro per cui li ringrazio perché sono sempre stati vicini.